Bene, partiamo immediatamente con Paolo Bidozzo, un grande campione boriziano. Adesso ascolta un attimo. In particolare i 27 incontri che non ho vinto. La professionalista invece ha vinto 21 incontri su 23. Grandissimo personaggio, noi lo vogliamo ricordare così. Vero Cesare? Esatto. Ciao Paolone. Ecco, non che ha perso adesso. Io lo ricordo come grande personaggio. Senti, il giovanotti di Giorizia. Veramente. No, è una scheramanzia, perché prima, prima meccanato non mettiamo mai la barba. Allora mancano le 10-15 giorni, fra un po' comincio a perdere. Adesso l'avremmo capito allora perché ti se lasci la barba. Ma pensa quando finirò le batter? Però guarda che non ti sta mica male. Senti, non ti dico niente per i prossimi giri. Allora diciamo che in settembre Cesare metterà in paglio il titolo italiano dei massimi. Speriamo che questo grande personaggio ci regali una bella soddisfazione.